Uno dei programmi che usiamo più di frequente a computer è il browser. Il browser è il programma che usiamo per accedere e navigare in internet. È il programma che ci consente di visualizzare le pagine dei siti web. Esistono diversi browser che possiamo usare per navigare in internet. Fra i più conosciuti abbiamo i browser Chrome, Firefox, Internet Explorer e Safari. Fra i programmi del nostro computer dovremmo essere in grado di trovare almeno uno di questi quattro browser. Tutti i browser presentano caratteristiche molto simili fra di loro. L'area che prende più spazio è quella dedicata ai contenuti delle pagine web visualizzate. Ovviamente una stessa pagina web, visualizzata attraverso browser diversi, appare sostanzialmente identica. Indipendentemente dal browser che stiamo usando per visualizzare i contenuti di una data pagina, la pagina non cambia. Quel che cambia da un browser all'altro è invece la parte in alto sulla finestra, quella che contiene pulsanti e altri strumenti di navigazione. Facciamo una panoramica veloce di questi strumenti. Anzitutto abbiamo due pulsanti di navigazione, indietro e avanti, che ci permettono di tornare velocemente alle pagine appena visitate. Immediatamente a destra troviamo la barra di navigazione. Qui, se lo conosciamo, inseriamo l'indirizzo del sito o comunque della pagina web da visualizzare. Nota che quando inseriamo l'indirizzo di un sito o di una pagina web, lo digitiamo senza spazi, tutto attaccato. Inoltre non sempre, ma in molti casi, anche se omettiamo il www iniziale, il browser è comunque in grado di riconoscere l'indirizzo e caricare la pagina. Un terzo strumento di navigazione molto importante è la barra di ricerca, che integra le funzionalità dei motori di ricerca direttamente all'interno dell'interfaccia del browser. Parleremo dei motori di ricerca e di ricerche online in un altro video. Per ora è importante tenere a mente che per effettuare una ricerca online tramite un motore di ricerca, non è necessario per forza andare alla pagina del motore di ricerca, ad esempio www.google.it. Si può risparmiare tempo digitando direttamente la parola o le parole chiave all'interno della barra di ricerca. Una volta inserite le parole chiave, premiamo il tasto Enter sulla tastiera per avviare la ricerca. E il browser dovrebbe mostrarci direttamente la pagina con i risultati della nostra ricerca. Google Chrome e Internet Explorer sono stati i primi browser ad integrare la barra di ricerca nella barra degli indirizzi. Quindi se usi uno di questi due browser nelle loro versioni più aggiornate, sappi che puoi usare la barra degli indirizzi per inserire indirizzi di pagine web come abbiamo visto prima, tipo www.pcabc.it, oppure parole chiave per una ricerca. È il browser stesso a riconoscere se si tratta di un indirizzo web o di una parola chiave. I browser sono tutti dotati di schede, o tab, uno strumento molto utile per velocizzare la navigazione. Avremo modo di vedere come più avanti nel corso. Per ora ricordiamoci che all'interno della stessa finestra del browser è possibile aprire diverse pagine web in schede differenti. Ed è possibile saltare da una scheda all'altra, quindi da una pagina aperta all'altra, semplicemente cliccando la relativa linguetta. Per aprire una nuova scheda, è sufficiente cliccare sul pulsante alla destra dell'ultima scheda aperta. Infine ogni browser dispone di un pulsante che dà accesso alle opzioni del browser, dove si possono cambiare preferenze di navigazione, modalità di visualizzazione dei contenuti, impostazioni di privacy e molto altro. Per ora ci limitiamo a sapere dove si trova questo tasto. Vedremo alcuni suoi utilizzi in seguito. Il browser che userò per la restante parte del corso è Google Chrome, perché la maggior parte dei servizi e dei programmi di cui parlerò è particolarmente ottimizzata su questo browser. Gli altri browser vanno bene comunque, ma se Google Chrome non è ancora installato nel tuo computer, prova a scorrere la lista dei programmi che trovi nel menu avvio, ti invito a cogliere l'occasione per vedere come sia semplice scaricare un programma da internet ed installarlo nel computer. Ti spiego come fare nel prossimo video. Grazie. 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 Grazie.